Se guardiamo l'Abruzzo, quali sono i territori che non sono aree interne? Quindi una fascia costiera è molto limitata, quindi la nostra regione vive con e deve vivere per le aree interne che hanno bisogno di servizi, ma hanno bisogno anche di infrastrutture e noi dobbiamo dare la possibilità anche ai nostri giovani di portare avanti delle attività economiche in queste zone. Quindi questi progetti vanno in questa direzione attraverso un dottorato di ricerca, che ripeto è un dottorato comunale, quindi è un'evoluzione anche della struttura del dottorato e con un progetto di comunicazione istituzionale, proprio per favorire poi il ruolo e per esaltare il ruolo di queste realtà. Un altro aspetto da sottolineare è l'impegno dell'Ateneo di Teramo, che abbiamo visto e abbiamo sentito anche delle parole del professor Corsi, che insomma continuerà verso le aree interne. È un impegno non legato soltanto alla formazione e alla ricerca, ma anche alla necessità di effettuare trasferimento tecnologico, quindi di mettere a terra quello che poi si studia nelle biblioteche e nei laboratori, concretamente nei nostri territori, che ribadiscono, meritano tutta la nostra attenzione. Questa è la strada più giusta da percorrere nel dare delle concrete opportunità al territorio, anche delle aree interne. Questo è il compito di una università, di una università pubblica, che deve indicare come sviluppo territoriale quello della strada dell'investimento sulla formazione della ricerca. Questa sarà la linea principale che andremo a sviluppare, impreziosire sempre di più anche per il prossimo sessegno di lavoro. Guardare alle aree interne deve essere un must, possiamo dire, da qui a venire. È fondamentale, fondamentale per una provincia come la nostra e per una regione come la nostra. Questa forma di riavvicinamento, di investire su quello che abbiamo di più prezioso, i nostri giovani, e farli specializzare con un dottorato di ricerca, credo che rappresenti il segno più tangibile, più importante, di un percorso di crescita e di sviluppo delle aree interne.